intorno a noi affronta un tema molto importante per il momento storico che stiamo vivendo a volte un po lasciato da parte ma che interessa a tutti è la cura degli anziani soprattutto degli anziani non autosufficienti lo facciamo con un'esperta del settore che ha costruito la sua esperienza proprio mettendo la sua disponibilità in questo tema e Gianfranca Duca ringraziamo di essere con noi e vorrei che lei stessa si presentasse dicesse un po il suo percorso in questo ambito Gianfranca raccontaci sì in realtà io arrivo al mondo degli anziani un po tardi anch'io un po da anziana perché parto con la scuola sono stata per quasi 30 anni una docente di religione in un liceo e ho però sempre affiancato a questo il tema della del welfare e delle politiche sociali e della progettazione sociale quindi una esperienza nel mondo del volontariato un'esperienza anche nel mio comune che è cinisello balsamo di assessore alle politiche sociali e poi diciamo la partenza con questa grande sfida che è quella della cura delle persone anziane persone anziane che sono sempre di più come classe demografica che vivono sempre più a lungo per fortuna e che hanno c'è bisogno quindi di di un pensiero nuovo rispetto a una vita di qualità sia rispetto ai temi di prevenzione sia rispetto proprio ai temi della cura quindi questa tua esperienza dall'insegnamento quindi soprattutto il contatto con i più giovani e poi forse anche la sensibilità il tuo impegno sociale che ti ha fatto capire come questo mondo questa realtà ha bisogno di uno sguardo particolare l'hai fatto da amministratrice con delle responsabilità e poi sempre più forse con un contatto più e una responsabilità se vogliamo ancora più diretta quali sono un po le esigenze che vedi in questo settore e che a volte magari non sono prese in conto sì da un lato le politiche per gli anziani sono spesso politiche legate all'emergenza quando la persona anziana perde completamente le sue autonomie occorre diciamo accelerando tempi e lasciando spesso le famiglie anche in una situazione di grande difficoltà rincorrere soluzioni che sono soluzioni spesso legate a l'allontanamento dal proprio domicilio e il ricovero quindi l'esigenza di politiche lungimiranti che progettino e possano permettere alle persone di progettare la propria vita un po come fanno i giovani quando progettano rispetto al futuro e intraprendono scelte conseguente così dovrebbe essere anche proprio la progettazione di questa parte della vita che è molto interessante ma che ha bisogno di progetti personalizzati e anche di come dire politiche che mettano insieme reti che non siano solo legati alla cura ma che siano reti sociali della società e che interpellino tutti abbiamo visto delle immagini penso che si riferiscono proprio ai luoghi che sono sotto la tua responsabilità tu sei direttrice generale di una realtà di una residenza per anziani e quindi quali sono le i contatti che hai con le famiglie gli anziani che cosa percepisci da questo tuo lavoro che è un po di coordinamento di tenere insieme le fila di tante esigenze si da un lato sicuramente la la residenza deve le residenze devono diventare cerchiamo di farle diventare un centro di servizi in cui le famiglie possano trovare risposte diverse ai bisogni dei loro cari una rete importante con la comunità per esempio l'importanza di progettare anche con i più giovani progetti intergenerazionali in cui la sapienza degli anziani e la freschezza dei bambini e dei giovani possano convivere e dall'altro il far sentire le famiglie meno sole ma dobbiamo essere in grado di costruire un'alleanza un'alleanza di cura questo è un po l'obiettivo no che che ci poniamo nel nostro lavoro certo e poi penso che una novità sia l'intervento anche delle nuove tecnologie della possibilità di avere a disposizione degli strumenti che una volta erano impensabili anche la tecnologia viene in aiuto alla non autosufficienza oppure anche a delle situazioni patologiche particolari è certo ed è sicuro che ci vuole un intorno totalmente umano e una sensibilità sociale che si approfondisce però direi alla regia di mandare in onda una parte di un servizio del tgr che ha presentato un'iniziativa legato alla residenza del sole giusto certo alle dimensioni di un bambolotto emette suoni di bambini di pochi mesi ma è senza volto si chiama iro una bambola robotica giapponese utilizzata come terapia per i malati di alzheimer il progetto il primo in italia nasce da una collaborazione tra l'università federico secondo di napoli è la rsa residenza del sole di cinisello balsamo nel milanese che ospita 20 pazienti con questa patologia gli mancano le caratteristiche somatiche del viso perché l'idea è quella di non proiettare l'immagine di un vissuto ma di avere un'idea fantastica di un'immagine qualsiasi la bambola robotica rispetto a quella tradizionale già usata da anni per i pazienti con alzheimer ha la caratteristica di interagire proviamo a cullarla a vedere se si addormenta perché se no dopo si mette a piangere sai se non dorme no non piangi no ok e l'ospite quindi a differenza della vecchia bambola normale ha un momento di sollievo e un momento di felicità perché sente che qualcuno sta reagendo in maniera positiva al mio trattamento la prendo in braccio cerco di parlarle cerco di accudirla e da questo ne trago un beneficio che il primo è quello di non sentirmi più solo perché l'isolamento emotivo relazionale in alzheimer è uno dei gravi dei danni maggiori ecco abbiamo visto qualcosa ma forse tu puoi approfondire anche perché abbiamo ospite questa bambola con noi lì accanto a te e puoi spiegare l'uso che si sta facendo di questo strumento e anche che che tipo di reazione genera sì intanto don roberto riprendo le tue parole perché tu parlavi di innovazione tecnologica ed umano ecco se riuscissimo davvero ed è questo no il nostro lavoro no di di unire la l'innovazione tecnologica che corre velocissima con davvero l'attenzione all'umano all'uomo in tutte le due le sue dimensioni e in tutte le fasi della vita che sono tutte estremamente importanti e ricche feconde noi avremmo come dire già realizzato no un progetto veramente nuovo della della nostra capacità di rendere sempre la vita con una qualità davvero elevata e questa bambolina è che si chiama iro è una bambolina che per noi è una esperienza importante perché sta all'interno di una ricerca scientifica condotta con appunto l'università federico secondo con un'altra cooperativa bolognese che è la cooperativa al sole e che ha permesso di monitorare quali sono i cambiamenti umorali di comportamento di persone che sono malate di alzheimer rispetto proprio a una relazione con con questa bambola e i risultati sono sorprendenti nel senso che migliorano le capacità relazionali spesso la bambola diventa anche un tramite tra una persona e l'altra no condividono la cura della bambola quindi fa aumentare le relazioni sociali abbiamo visto che la terapia farmacologica può essere diminuita perché i comportamenti i disturbi comportamentali diminuiscono sensibilmente e aumentano invece esperienze come abbiamo visto anche nel video di di tenerezza di cura di possibilità di avere ancora no per l'anziano una capacità di abbracciare di prendersi cura no di di curare qualcun altro racconto don roberto questa esperienza velocissima abbiamo visto che se diciamo a una persona con alzheimer beh infilati le calze spesso le calze vengono infilate in posti non consoli cercano di metterle sulle mani no a volte anche sull'orecchio ma se diciamo metti le calzine alla bambola non sbagliano mai ecco quindi questo è molto molto interessante rispetto al mantenimento delle capacità penso che sia interessante anche far capire come un'attenzione chiamiamola umano tecnologica si lega alla cura di persone che come dice papa francesco potrebbero essere considerate uno scarto invece no vanno accudite perché fanno parte della nostra vita della nostra società bisogna accompagnarle nel loro nella loro esperienza quello che stanno vivendo in quel momento in questo momento e voi addirittura partecipate a un forum che è uno scambio di competenze di esperienze ci puoi spiegare anche questo sì quest'anno parteciperemo al forum della non autosufficienza a milano sarà il giorno il giorno 15 e porteremo questo questo tema c'è il ruolo no della bambola robot nella nella cura della persona con demenza all'interno di un workshop quindi di una possibilità importante di scambio con altri operatori proprio perché l'idea che la comunione di pratica l'idea che le conoscenze possano trasmettersi e si possa imparare dalle esperienze degli altri è alla base di ogni sviluppo anche anche umano e ci possa insomma comunque arricchire e far arricchire questo è un po l'obiettivo con cui abbiamo accettato questa questa nuova sfida quindi è proprio bello capire come ci siano delle persone come te e penso anche altre persone che collaborano con te sia come professionisti che come volontari e come persone che partecipano alla vita di una rsa e di una cooperativa che è impegnata su vari fronti anche per questa parte della vita che dobbiamo tenere in conto io direi con un sorriso sulle labbra come tu sempre fai anche con l'apertura alla tecnologia allora che cosa ciascuno può fare per avvicinare magari le persone che sono un po più avanti negli anni anche con qualche difficoltà di non autosufficienza il tuo consiglio per concludere allora fornire tantissime esperienze la solitudine è l'elemento che provoca in gran parte il decadimento decadimento cognitivo fisico quindi esperienze anche di normale quotidianità non priviamoli cioè la cura deve essere anche capace di convivere con il rischio che anche la persona anziana possa nella sua quotidianità incontrare gli altri andare comunque a fare la spesa andare comunque a giocare a carte nel bar dell'oratorio non privarli in nome di una sicurezza di capacità di relazione che sono davvero alla base della nostra umanità grazie Gianfranca per questa testimonianza penso che ritorneremo su questo argomento e su queste esperienze perché ne abbiamo bisogno dobbiamo imparare per la nostra vita e per la vita di chi c'è accanto a affrontare questi temi ea sentirli nostri grazie 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 a tutti